bentornati utenti carissimi allora l'argomento di oggi è in generale internet proprio a vedere abbiamo fatto vini passato parlando di internet ovviamente come migliori browser come veloci sarin però non abbiamo sinceramente mai parlato proprio di internet la differenza che c'è in questo video ne parleremo fra proprio un sito internet che è punto it è un sito interno invece che è punto com quindi questo vi interesserebbe qualora insomma voi andate ad aprire dovete andare ad aprire per esempio un sito inter di quale estensione andare a scegliere se è meglio la punto it se è meglio la puntocom quale insomma si vede di più e quale più famosa fra le due intanto cerchiamo di capire insomma quale è meglio aprire come sito internet se ne dovete aprire qualcuno intanto il punto it proprio come estensione la differenza qual è fra il punto com il punto it la parola stessa lo dice è ovviamente un estensione totalmente italiana quindi per tutti quei siti insomma che girano in tutta italia quindi nella nostra nazione ovviamente un utente aprirà un sito punto it come estensione invece la differenza quindi con un sito punto com dove sta il sito punto com ovviamente non è solo parte perché anche il com fa parte dell'italia quindi della nostra azione ma è molto più grande quindi in tutto il mondo il sito punto com quindi oltre ad essere e girare in italia mentre il sito punto com è ricercato in tutto il mondo quindi sia paesi europei quindi che quelli che fanno parte dell'unione europea quindi che vanno oltre ovviamente anche l'italia stessa ogni fuori dall'italia e ovviamente extra europei quindi tutto quello che possa riguardare per esempio america andare cina giappone quindi che vanno oltre oceano quindi in questo caso ecco cos'è il punto com quale è meglio però andare utilizzare come sito su questo non c'è una risposta specifica perché voi comunque potete utilizzare sia il punto it sia il punto com ovviamente se dovete fare girare un vostro sito soltanto in italia perché mi interessa comunque è tutto quello che voi dite a prescindere che sia poi su questo argomento faremo anche un video ulteriore è un video diciamo dedicato per meglio dire fra differenza fra sito internet che vi interessa fare girare o in italia o nel resto del mondo oppure un e commerce perché è ben diverso quindi c'è la differenza però questo lo accosteremo sicuramente a un nuovo video che faremo fra qualche settimana quindi detto ciò se vi interessa solo fare girare il sito internet quindi in italia con una vostra idea con un vostro merchandise una vendita eccetera eccetera non vi interessa proprio andare oltre l'italia stessa dovete creare un sito punto it se invece vi interessa creare un sito che vada oltre e voglia essere visto oltre l'italia stessa anche se sia un paese europeo o che non fa parte dell'europa quindi abbiamo detto america eccetera eccetera dovete creare un sito punto com quindi già di qua si è capito l'indirizzo che dovete dare al vostro sito dipende se volete dentro l'italia o fuori dall'italia e il sito punto it ovviamente un sito internet si può dire io lo chiamerei come se uno volesse spiegare un'idea quindi se voi avete un'idea di un sito cioè ci sono siti ovviamente.it anche che fanno delle vendite di merce però vi ho detto poi questo argomento con l'e-commerce lo affronteremo in un altro video però a prescindere diciamo col punto it sia che si può fare un'idea diciamo di un sito uno che vuole anche esternare delle proprie opinioni allora apro un sito internet in italia punto it oppure il sito punto com magari però è più commerciale però anche se il sito punto com è effettivamente un sito commerciale quindi proprio dove si fa un commercio il sito va oltre abbiamo detto l'italia il sito punto it e diciamo un sito che si molto dedicata delle idee a proporre un qualche cosa quindi noi lo immettiamo tutto in un sito in più però si può fare anche del merchandise gol puntetti però abbiamo detto prossimo video questo di qua quale sito viene visto di più molti domandano quale sito viene visto di più quindi se comunque conviene andare ad aprire un punto it o un punto com allora questo è stato per esempio smentito da google stessa poi se è vero se non è vero non si sa diciamo c'è google ha smentito il discorso che viene visto più un sito per esempio punti t o punto com in questo caso si dice che vengono visti molto di più i punto com anche perché sono i molto più antichi dal sito punti ecco o viceversa che il sito magari tutti possa essere ricercato proprio quando la gente va a digitare anche per dire porta penne da con ad acquistare allora vi riporta tutti quei siti magari che offrono materiale di cartoleria e in questo caso magari ci può essere il nostro che pubblicizza po materiale di cartoleria quindi in questo caso capite bene che molti aprono proprio un punto it perché pensano del punto it nelle ricerche sia molto molto più ricercato è molto più facile andare a trovare quindi con la possibilità di vendere noi molto molto più merce perché magari quel portapenne viene visto da molte più persone perché proprio google da priorità a tutti i siti punti quindi a un nostro sito che ha dell'estensione punti questo è stato smentito da google quindi sia il punto it che il punto com e quindi qualsiasi estensione di sito che voi volete aprire decidiate di utilizzare viene sempre si sta si dà la stessa importanza di ricerca almeno google dice questo quindi potete benestimamente aprire sia o un punto it o punto com quindi con le differenze che vi ho fatto capire se dovete vi interessa soltanto rimanere in italia vi consiglio ovviamente di aprire un sito appunto it altra cosa vi dirò che più avanti sempre non mancherà chissà quanto tempo pochissimo faremo anche un altro video dove vi consiglierò i migliori siti scusate il gioco di parole per aprire proprio un sito internet quindi vediamo quali sono quei programmi che riescono a fare a creare ormai con l'intelligenza artificiale se ci sta credo poco di meno di due minutini per creare addirittura un sito tutti in automatico però andiamo a vedere quali sono i siti migliori per la sua volta per sua volta creare un sito internet nostro e ovviamente sia condominio gratuito se condominio a pagamento quindi questo ovviamente lo vedremo più avanti però non tanto più avanti insomma credo massimo fra qualche settimana faremo anche questo video così magari dedicheremo un due tre video ad internet però in canalizzato su questo argomento proprio sulle funzionalità di internet stesso come andare a lavorare per creare un sito internet quindi detto ciò riprogani in tre secondi punto it se volete rimanere in italia se volete andare oltre l'italia ovviamente quindi perché voi avete un merchandise che è più che va al di fuori dell'italia quindi anche all'interno dell'europa stesso o extraeuropeo aprite invece un punto com spero di avervi chiarito quale sia la differenza fra le due estensioni che ora diciamo siete magari bravi ad aprire scegliere il vostro sito internet in completa autonomia detto ciò ci vediamo sempre parlando in internet nei prossimi video ciao a tutti